Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del percorso che fa il segnale all'interno di Cubase, nello specifico nel mixer di Cubase. Questo potrebbe essere molto utile per approfondire un po' questo argomento e capire al meglio come riuscire a sfruttare ad esempio un cambio di ordine dei plugin che applicheremo, come sfruttare al meglio le mandate pre-post fader, gli insert pre-post fader e tutta la sezione di equalizzazione e channel strip. So che ci sono un po' di passaggi da verificare insieme quindi troverete poi qua sotto in descrizione un link che vi porterà ad un'immagine che potete anche poi stampare per avere sempre sott'occhio qual è appunto il percorso del segnale. La trovate qua sotto in descrizione. Il punto di collegamento tra Cubase e il mondo esterno sono gli ingressi audio. Andando sul nostro mixer possiamo trovarli sotto forma di fader rosso. Questi sono tutti gli ingressi relativi alla scheda audio cioè che noi possiamo sfruttare per registrare un microfono o uno strumento musicale. In questo caso si può vedere anche dal meter che si accende sto utilizzando l'ingresso numero 8 per parlare in questo tutorial. I canali di ingresso hanno poi bisogno di una traccia per poter funzionare altrimenti non possiamo registrare nulla. In questo caso ho già creato una traccia che contiene una clip ma se noi volessimo registrare appunto l'ingresso 8 dovremo selezionarlo in questo punto. Quindi andiamo in routing ingresso e selezioniamo quale è necessario nel nostro caso. Subito sotto troviamo stereo out. Questo dobbiamo immaginarcelo posizionato qua in fondo cioè il punto di uscita finale di Cubase cioè dove verranno racchiuse tutte le tracce per poi essere esportate. Se io faccio play abbiamo sotto un loop di batteria vediamo che sullo stereo out abbiamo un segnale. Se io abbasso poi il volume del mio canale abbasserò anche quello che sta arrivando nello stereo out. Se io ad esempio togliessi questo non avrei più nessun tipo di segnale sul mio stereo out che io alzi o abbassi il mio fader di volume. Questo è fondamentale per riuscire a capire subito dove tutto quello che sto facendo attraverso gli insert, l'equalizzatore e la channel strip mi accorgerò che sarà tutto relativo poi a se abilito o meno lo stereo out altrimenti non potrò sentire nulla. Questo ce lo immaginiamo appunto posizionato qua in basso dopo la possibilità di scegliere se mandare il segnale a sinistra o destra o abbassare o alzare il volume. In questo caso livello grafico è comunque posizionato in alto nella sezione routing. Se io vado qua in alto ad esempio trovo racks. Questo mi permette di aprire alcune zone del mixer che potrebbero essere nascoste all'inizio. Apriamo anche la sezione pre. Quello che noi vogliamo fare è capire dove sono posizionati a livello di routing quindi di percorso di segnale tutte queste voci che noi possiamo trovare in questo caso. Iniziamo dalla sezione pre. In questo caso troviamo due filtri, un controllo di guadagno e la fase. Vogliamo verificare effettivamente se questi due filtri sono la stessa cosa che io potrei utilizzare attraverso l'equalizzatore e capire se sono posizionati ad esempio prima o dopo gli insert o prima o dopo la channel strip. Allora facciamo questo esperimento. Inseriamo in insert un plugin che ci permetta di visionare qualcosa e possiamo utilizzare supervision. In questo caso saremo in grado di capire se all'insert arriverà del segnale attraverso appunto il meter level e ad aggiungiamo anche ad esempio un analizzatore di spettro. In questo caso vedremo se ci sarà segnale e se il nostro spettro subirà una variazione a livello di frequenze. Facciamo play e vediamo ad esempio che abbassando il volume sul nostro stereo out non ci sarà segnale ma in questo caso avremo segnale sullo spectrum curve. Vuol dire che agli insert continuerà ad arrivare segnale continuerà ad arrivare segnale nel momento in cui io abbasso o alzo il volume. Questo perché? Perché gli insert sono posizionati all'inizio della catena. Cerchiamo di capire però se questi due filtri sono posizionati prima o dopo gli insert. Ad esempio ridiamo volume in uscita e iniziamo a utilizzare il filtro passa basso. Dobbiamo far riferimento adesso allo spectrum curve cioè capire se le nostre frequenze si modificano. Adesso attiviamo la sezione pre utilizzando il filtro passa basso. In questo caso verificheremo se appunto il filtro è posizionato prima o dopo l'insert. Facciamo play e guardiamo lo spectrum curve. Come vedete la parte delle alte frequenze viene persa. Questo possiamo accorgercene perché il nostro processo di filtro è stato posizionato prima degli insert. Quindi vuol dire che a livello grafico il filtro passa alto e quello passa basso sono posizionati prima dell'insert. Questo è importante per capire però esattamente che i due filtri non funzionano esattamente come quello che accade nel nostro equalizzatore. Quindi l'equalizzatore che troviamo in queste quattro bande è posizionato dopo gli insert mentre questo filtro questi due filtri sono posizionati prima degli insert. Verifichiamo cosa succede invece con la manopola gain quindi guadagno. Vedete che abbassando il guadagno stiamo abbassando il segnale che arriverà anche agli insert. Questo vuol dire che il guadagno funzionerà proprio all'inizio della catena quindi questo ci permetterà di abbassare totalmente tutto quello che c'è sulla traccia selezionata quindi tutto quello che importeremo nella traccia drums. Quindi ci permetterà di aumentare o diminuire il guadagno di tutto il canale. Ritorniamo a unity gain. Abbiamo capito questa sezione dove è posizionata. Cerchiamo di capire meglio come sono sfruttati gli insert. Per capire invece come sfruttare gli insert dobbiamo andare in questa schermata per vederli tutti aperti e fare attenzione a questa riga. Questa riga indica dove sono posizionati gli insert pre o post fader quindi dove sono posizionati questi slot. Possiamo anche decidere di mettere la metà per averne 8 pre fader e 8 post fader. In questo caso abbiamo gli slot pre fader. Se noi andiamo a modificare il volume in questo canale verificheremo che con l'insert posizionato nei primi slot non avremo nessuna variazione di volume in questo caso perché vedete che arriverà sempre lo stesso livello. Se invece vado a posizionare l'insert post fader succederà questa cosa. Il plugin diventerà arancione e se io vado a abbassare ad esempio tutto il volume vedete che al plugin che è stato ora posizionato in questo punto qua non arriverà nessun segnale arriverà man mano che io poi vado ad alzare il canale. Quindi gli slot post fader sono posizionati come vederli qua in basso quindi prima dell'uscita stereo out ma dopo la regolazione del fader. Quindi questo è importante per capirlo per capire a livello grafico dove sono posizionati questi slot a livello di percorso del segnale. Questo è molto importante per riuscire a capire come sfruttare alcune funzionalità. Andiamo ora a verificare dov'è posizionato l'equalizzatore quindi cerchiamo di capire se ad esempio a posizionando un plugin in insert ma post fader se l'equalizzatore è posizionato prima o dopo gli slot post fader. Facciamo play e utilizziamo ad esempio sempre un filtro quindi utilizziamo un low pass. Vediamo che abbiamo una perdita di frequenze alte. In questo caso vuol dire che in ogni caso il mio equalizzatore è posizionato prima degli slot post fader. Infatti questo slot è in grado di verificare una modifica utilizzata dall'equalizzatore. In questo caso abbiamo capito uno step successivo in più, uno step in più. Cosa succede invece se io vado a posizionare all'inizio della catena supervision? Verifichiamo. In questo caso vogliamo capire se l'equalizzatore è posizionato prima o dopo gli insert. In questo caso se noi facciamo play e abbiamo il filtro acceso vedete che non abbiamo nessuna modifica a livello di frequenze. Questo perché? Perché l'equalizzatore a livello di ordine è posizionato dopo gli insert pre fader. Questo ci permette di capire che se noi vogliamo creare un ordine di utilizzo dei vari insert, se ad esempio vogliamo equalizzare uno strumento ma vogliamo comprimere, in questo caso se mettessimo un compressore nello slot numero 1 avremmo la compressione e successivamente l'equalizzazione. Se volessimo fare il contrario dovremmo aprire uno slot ad esempio con un equalizzatore nello slot 1 e un compressore in catena successivamente nello slot 2. Questo è molto importante per capire appunto qual è l'ordine dei plugin che vogliamo applicare. Andiamo ora a vedere la channel strip. In questo caso la vediamo posizionata dopo l'equalizzatore. Facciamo una prova, l'apriamo sempre con la nostra schermata un po' più in grande e andiamo sulla channel strip. Ci accorgiamo in questo caso però che la channel strip ci permette di modificare l'ordine dei nostri processori. Quindi ci permette di cambiare anche il punto in cui noi andremo ad applicare l'equalizzatore. Quindi se noi vogliamo sfruttare gli insert sappiamo che avremo tutta la colonna degli insert prefader. Andremo con una freccia immaginatevi in questo punto qua dove potremo poi selezionare ad esempio un ordine differente. Quindi se noi vogliamo prima comprimere e poi equalizzare saremo in grado di farlo. Proviamo a capire se ad esempio il limitere è posizionato prima di supervision o dopo. Quindi lo abilitiamo riduciamo tutto il volume vedete che in questo caso non abbiamo nessuna modifica del livello del segnale in posizione prefader a livello di insert. Questo ci insegna che appunto la channel strip è posizionata dopo gli insert prefader. Se invece posizioniamo supervision post fader vedete che l'input andrà anche ad agire sulla quantità di segnale in questo punto qua. Quindi andiamo a confermare il fatto che gli insert post fader sono posizionati dopo la channel strip. Quindi abbiamo capito anche questo passaggio. Andiamo a vedere adesso le mandate. Le mandate esistono in modalità prefader e post fader. Quindi send e apriamo una nuova mandata. Dobbiamo creare un nuovo canale ad esempio un canale effetti. Quindi lo facciamo attraverso aggiungi un canale fx ai canali selezionati. Quello che carichiamo sul canale effetti a noi non interessa per questo scopo. Utilizzo adesso una mandata prefader. Quello che voglio verificare è come funziona appunto a livello di percorso di segnale. Se io mando piano piano del segnale al canale effetti vedete che in questo caso più aumento questo fader più gli arriva segnale. Se io utilizzo il fader di volume continua ad arrivare la stessa quantità di segnale. Quindi il fader nella modalità prefader non è assolutamente preso in considerazione. Vediamo cosa succede con gli insert ad esempio. Se io nell'insert vado a posizionare ad esempio un plugin che mi permetta di ridurre un po' il volume. Ad esempio mettiamo un semplice frequency. Quello che noi vogliamo verificare ora è se continuerà ad arrivare segnale al mio alla mia mandata quindi al mio effetto. Ho abbassato di molto. Vedete che anche il canale effetti subirà una variazione di livello. Questo vuol dire che gli insert avranno valenza per tutto il segnale che verrà mandato poi al canale effetto. Quindi questo è importante. Ma se io vado invece ad utilizzare una mandata post fader che posso selezionare da qui. Mi faccio post fader. Cosa succede? sicuramente gli insert li abbiamo già presi in considerazione prima e sicuramente avremo anche gli equalizzatori la channel strip inclusa nelle mandate post fader perché sono posizionate qua sotto le mandate post fader. Se io vado a fare questa variazione ora anche la quantità alziamo un po' da qui che abbiamo abbassato prima anche la quantità di volume che abbiamo sul canale effetti avrà una differenza perché avremo l'interazione del fader di volume il fader classico quindi quello principale del canale e avremo l'interazione del fader della mandata. Quindi questo ci fa capire subito che in questo caso avremo nella mandata post fader tutto quello che troviamo a livello di processi sul nostro canale includendo anche il mio fader di volume. Cosa succede invece con il balance sinistra destra o con il pan? Io ho bypassato l'effetto per non avere nessuna modifica del segnale all'interno del canale quindi quello che parte da qui dovrei ottenerlo uguale identico sul ritorno effetti di canale effetto. Faccio play se io vado a posizionare il balance sulla sinistra vedete che effettivamente sul canale avrò spostato il mio suono da una parte sul mio ritorno effetti però questa cosa non avviene continua ad avere esattamente la stessa posizione la stessa quantità di segnale in left e right. Questo è importante per capire che nel mio attraverso una mandata il mio left e right non verrà spostato perché il ritorno sarà esattamente posizionato in centro. Questo significa che in una mandata anche post fader il mio balance non avrà nessuna tipologia di modifica quindi il send è posizionato pre balance. Ci manca ancora un passaggio da verificare nel momento ad esempio in cui noi vogliamo creare una traccia gruppo la creo stereo voglio fare in modo che questo segnale vada a finire in un'altra traccia quindi io posso andare nel routing e fare gruppo 1. Se io vado a creare appunto una traccia gruppo posso andare a scegliere quanto questo canale arrivi poi allo stereo out quindi sarà comunque un modo per raggruppare più tracce e gestirle in modo sommato per poi andare allo stereo out. Spero di avervi dato un'idea per capire esattamente com'è strutturato il percorso di segnale all'interno di Cubase. Abbiamo visto le cose fondamentali che possono schiarirci un po' le idee. se avete delle domande lasciateli nei commenti spero sia stato utile per riflettere un po' e fare un ripasso su come viene gestito appunto il percorso del segnale. Se vi va iscrivetevi a questo canale e lasciate un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!